Magnifico, ci sono dei lavori in corso dinanzi al suo rettorato, cosa sta accadendo? Sì, dei lavori, un piccolo cantiere, siamo felicissimi di averlo aperto e stiamo trasferendo la porta monumentale di Crocetti, realizzata da Crocetti per l'Università che finora è stata collocata nell'immobile di Viale Crucioli, la vogliamo porre all'ingresso del rettorato all'esterno, spalancata sulla città, voler sottolineare ancora una volta il rapporto simbiotico che deve esistere fra città e università. L'occasione ci consentirà anche di installare un'altra scultura particolarmente importante, molto molto bella di Crocetti, la gravida, che ci è stata data, incomodato gratuito dalla Fondazione Crocetti che naturalmente ringrazio molto. Sarà un piccolo angolo dedicato in qualche modo a Crocetti perché avremo la porta monumentale sulla gradinata d'ingresso, la gravida subito dopo e la lionessa che era stata acquistata dall'Ateneo e che verrà reinstallata anche lì in prossimità dell'accesso al polo didattico. Sarà un angolo molto bello da vedere e molto significativo anche il riferimento a Crocetti che resta uno degli artisti di maggior pregio a che questa città ha espresso. E perché no, magari magnifico domani, pezzo dopo pezzo, si potrebbe creare una sorta di piccolo museo all'interno dell'Università. Il progetto del Museo Universitario è un progetto che abbiamo già in qualche modo elaborato. Stiamo rivedendo lo statuto e cercheremo di inserire persino nello statuto la previsione di un museo universitario, magari in consorzio con gli altri musei universitari. Penso che questo possa essere un ulteriore piccolo gioiellino da offrire a questo territorio. Un piccolo museo di arti del Novecento, di arti contemporanee potrebbe essere anche qui lo spunto per sostenere e rilanciare le aspirazioni e le ambizioni culturali di questa città.